bello a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio secondo canale youtube giorni a mercato oggi siamo qua tornati per un nuovo video di calcio mercato perchè oggi andiamo già a parlare di un argomento in realtà molto chiacchierato, molto discusso già da una settimana alla circa ovvero quello di Eric Mkhitaryan all'Inter mi raccomando ragazzi prima di tutto like, iscrizione e campanella condividete questo video con tutti i vostri amici e lasciate like a questo non perdetevi alcuni video, restate sempre al giorno sul mio canale youtube Mkhitaryan sceglie l'Inter, decisione comunicata alla Roma, i dettagli in realtà di questo affare come vi dicevo prima si parlava già circa da una settimana fa onestamente non mi aspettavo lasciarsi la Roma perchè all'Inter io non so quanto giocherà non so se sia una buona scelta poi ve lo comunicherò diciamo dopo ve lo dirò dopo dopo aver letto l'articolo però questo affare in chiusura vedete è quasi ufficiale l'Inter è uscita a creare Mkhitaryan e nulla dai leggiamo l'articolo Mkhitaryan ha scelto l'Inter, il centrocampista armeni in scadenza con la Roma ha comunicato il club giallo-rosso alla sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza quest'anno di trasferirci nel nero azzurro il titolo gratuito Piovono conferma tutti i fronti da Sky Sports il tempo passando per Sport Italia Mkhitaryan ha deciso di accettare il PNL da 4,5 milioni annui messo sul tavolo da Peppe Marotta Dopo un anno un altro in forza parametra 0 per i nero che continuano a lavorare per arrivare allo svincolato più cercato della serie A Paolino di Polla Ok vediamo se riesco a trovare ancora qualcosa Il giallo-rosso ha proposto un contratto a 3,5 milioni a stagione più bonus legato alla presenza di rinnovi in caso di piazzamento europeo del prossimo anno Lo dice appunto Sky Sport, lo dice Fabrizio Romano eccetera eccetera Vi vado a dire un attimo il mio parere Per quanto mi riguarda secondo me non ha fatto l'interno di rapporto Nel senso che passare dalla Roma all'Inter A quanti anni avrà Mkhitaryan? 32-33? Io non so se sia la scelta più giusta per l'Inter Perché il giocatore, cioè Mkhitaryan ha scelto bene Perché comunque vuole concludere la carriera con qualche titolo E da un po' che non vince tanti titoli Eccetera la Conference League con la Roma e magari all'Inter Potrebbe vincere qualcosa Per me Mkhitaryan ha fatto una buona scelta Ma penso che la Roma ci abbia guadagnato Cioè no, penso che la Roma ci abbia perso da un lato ma ha guadagnato l'altro E penso che l'Inter ci abbia perso Per esempio ci ho fatto che 4 milioni e mezzo a Mkhitaryan sono tantini secondo me È un giocatore con 33 anni praticamente Quindi è in realtà bella avanzata In quella posizione secondo me devi sfruttare Ciaranoglu E secondo me un po' Mkhitaryan Ciaranoglu Magari Ciaranoglu dopo un po' E anche lo stesso Mkhitaryan potrebbero diciamo lamentarsi dal poco minutaggio Poi io ho visto tanti che dicono Mkhitaryan può fare tutto Anche il centrocampista ho capito Però se uno ha messo fuori ruolo è quasi sicuro che farà peggio nel ruolo In cui ha espresso la sua forma migliore E poi penso che l'Inter doveva prendere più un giocatore giovane di prospettiva Che magari è sempre in quella posizione Però tipo esempio il nome è proprio fuori portata Cioè è proprio un nome che non si è mai parlato Ma secondo me è sottovalutato Ovvero Samarzic Centrocampista dell'Udinese Però tipo giovane Dell'Udinese trequartista Giocherebbe Panchinaro Sarebbe appunto Panchinaro E non romperebbe troppo le palle Di assunto Io penso che Mkhitaryan voglia fare tante partite Secondo me ne giocherà una decina da titolare Poi magari una decina entra poi in campo Però io non so se sia un colpo bellissimo per l'Inter Cioè per quanto mi riguarda non è un gran colpo Perché ha punti in gaggio alto Età avanzata Stesso ruolo di Cialanoglu Non mi convince tanto Onestamente Però per la Roma secondo me Cioè per me La Roma si è guadagnato Perché comunque dare uno Che dare via a uno che guadagna 4 milioni all'anno Comunque non è poco E poi comunque vedere uno che tra Cioè che dopo un po' Finirà la carriera Però da una parte se un nome è la Roma Ci ha più perso Perché? Perché se un nome è Mkhitaryan Cioè io l'avrei tenuto se fosse stata la Roma Avrei comunque alzato un po' l'offerta Però comunque In quella posizione Forse dai Zagnolo Su cui ci sono i 26 milioni Più altre squadre che vogliono trattare Visto che la Roma l'ha messo sul mercato Quindi Perdi nella stessa finestra del mercato Mkhitaryan e Zagnolo Dopo che giochi con il 3-5-2 3-4-2-1 Cioè comunque non è la cosa migliore Avresti solo Pellegrini Ovvio che la Roma farà un acquisto Penso lì Però Va bene Mkhitaryan diciamo che Alla Roma ha sempre fatto abbastanza bene Perché Molto bene Soprattutto La seconda stagione La prima anche Diciamo che quest'anno Non ha fatto benissimo Però Io appunto l'avrei tenuto Ha fatto pochi gol Però Comunque secondo me Per Mourinho Un giocatore che è veramente Tanto importante A me è sempre piaciuto Mkhitaryan Se devo essere sincero Però Va all'Inter Va all'Inter Diciamo che Come vi dicevo prima È un colpo che Non capisco molto Capisco se la Roma L'abbia dato via Ci può anche stare Però secondo me La Roma doveva tenerlo Questo è un po' Il mio pensiero Ovviamente fatemi sapere Qui sotto nei commenti Cosa pensate anche voi Se È un buon acquisto Se non è Un buon acquisto Cioè io penso che L'Inter non è che abbia fatto Un colpo Veramente Schifoso Però Secondo me Io La starei a andare Su altri profili Più giovani Anche perché L'Inter inizia ad avere Qualche Over 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 30 Di troppo Vidal Adesso Mkhitaryan Dzeko Che prima o poi Andrà sostituito Andanovic Che in realtà C'è un'ana Però un'ana Onestamente Non mi dà Troppe garanzie C'è Vabbè Ranocchia Che andrà via Cioè insomma L'Inter C'è qualche Over 30 Diciamo Come si dice Di peso Perché Vidal Andrà via Ranocchia Andrà via Dzeko Un po' andrà via Nonostante Dzeko ha fatto Secondo me Molto bene All'Inter Però Da una parte Questo acquisto Può anche dare Esperienze Cioè Perché in una squadra Di calcio Bisogna alternare Giovani E Diciamo Vecchi Tra virgoletti Bisogna Ci deve essere Un po' un mix Tra giovani Calciatori Ventenni E un mix Tra quelli Un po' più Avanti Con l'età Che possono comunque Dare In campo Una cosa Magari che non Tipo dai Giovani Esempio Venezia Mercato Gennaio Schifoso Prendi solo Giovani E fai schifo È ovvio Cioè Una squadra come Il Venezia Deve prendere anche I giocatori più esperti Il Monza Deve prendere I giocatori esperti Più che altro Anche giovani Perché Quei esperti Che non scuola meglio Il campionato E poi passare Dalla Roma All'Inter Non lo so È come se Non lo so Fatemi Non lo so È come se Rugani passasse Dalla Juve alla Lazio Che quello è un altro discorso Però Non lo so Onestamente Miki Italian Cioè io l'avrei fatto Se fosse stato Miki Italian Perché comunque Lì vinci qualcosa Alla Roma Non vinci niente In sostanza Però Ci devi anche contare Che Alla Roma Alle giochi 30 partita All'Inter Non giocherà una decina Titolare E poi vieni in campo Cioè Devi fare anche Questo tipo di ragionamento E poi l'Inter Gioca con il 352 Con il 34ista Però penso che Giocherà Cianoglu Cioè A me è sempre piaciuto Miki Italian Però onestamente Non capisco Questo acquisto di Marotta Però Magari Si può rivela Vincente Detto questo ragazzi Fatemi sapere Qui sotto nei commenti Cosa pensate Ciao ragazzi Grazie a tutti